Buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie Segretario. Utilizzerò questo spazio per presentare la struttura dell'Ufficio Studi della Wilka nazionale, specificando ciò che abbiamo fatto negli ultimi tempi, come ci siamo mossi, e quali sono gli argomenti, uno soprattutto, che intendiamo affrontare in maniera approfondita nei prossimi mesi. L'Ufficio Studi della Wilka è una struttura estremamente leggera, che è coordinata da Orietta Guerra, opera in staff direttamente col Segretario Generale, dal quale riceve le linee guida e le finalità. A questo scopo mi permetto di aprire una parentesi. Orietta Guerra purtroppo non può essere qua con noi in questo momento, a lei va tutta la nostra vicinanza umana. Grazie per l'applauso. E l'augurio che possa presto tornare a lavorare con noi, perché credetemi, non è semplice portare avanti il lavoro dell'Ufficio Studi senza Orietta. I membri dell'Ufficio sono cinque. Detto di Orietta, c'è Massimo Bramante, che è l'accademico del gruppo, e che porta un contributo molto importante di approfondimento scientifico e culturale sugli argomenti che l'Ufficio affronta. Marco Aguiari, che è l'uomo delle assicurazioni, al quale molto recentemente va il merito di aver curato un approfondimento importante circa le dinamiche delle retribuzioni dei manager delle assicurazioni. E poi c'è Roberto Telatin, altro uomo dei numeri, che insomma adesso non vedo, ma immagino che sia qui, al quale va il merito di approfondire tutti gli anni la dinamica delle retribuzioni dei manager bancari, argomento che trova sempre molta eco negli organi di stampa e che con una certa soddisfazione, possiamo dirlo, provoca anche qualche mal di pancia nei piani alti delle banche, questo non ci dispiace. Si è ritenuto di utilizzare una struttura molto delocalizzata e così leggera con il convincimento che il contenimento dei costi non avrebbe diminuito il valore dei risultati e in considerazione dell'eco che trovano i lavori dell'Ufficio Studi riteniamo che come scelta sia stata una scelta vincente. Posso dire che l'attività dell'Ufficio si sviluppa attraverso tre direttrici principali. La prima è quella di fornire al Segretario Generale tutti gli approfondimenti necessari per supportarlo nelle trattative, nel corso di audizioni o nel corso di partecipazione a congressi o convegni. Poi c'è l'approfondimento di tutte le tematiche del mondo del lavoro e dell'economia che l'Ufficio Studi mette a disposizione sul sito a favore di tutte le delegazioni trattanti a qualsiasi livello. E poi c'è un terzo filone di attività che penso di poter definire sociale in quanto l'Ufficio Studi pone a disposizione di tutte le categorie della Confederazione la propria competenza per sviluppare argomenti di interesse generale che sono relativi evidentemente ai nostri campi di intervento ovvero il mondo finanziario, bancario e assicurativo. In questo senso, nell'apposita sezione del sito della Wilka si possono vedere suddivisi per anni i lavori che sono stati proposti quindi approfondimenti sulla Tobin Tax, approfondimenti sulla finanza islamica sulle tematiche del mondo del lavoro bancario partecipazione a programmi della RAI in qualità di controparti qualificate per dirimere questioni di carattere bancario e assicurativo Lo scorso anno abbiamo in collaborazione con ADOC e con la Wilpensionati abbiamo prodotto delle brochure informative di alfabetizzazione della terza età che abbiamo presentato nell'ambito di una serie di incontri a Genova, Roma, Milano e Napoli che sono stati molto partecipati e molto vissuti dalle categorie Per questo riteniamo che comunque in futuro l'attività dell'ufficio studi rimane comunque sempre sceltazone dei crediti e delle fatture commerciali via internet e più in generale su tutti quegli strumenti innovativi di intermediazione del credito che saltano il ruolo della banca, approfittando di piattaforme internet ad esso dedicate. Per noi questo è un argomento molto importante perché cogliamo immediatamente i riflessi che possono ricadere sulla categoria. Intanto in termini di necessità, qualora le banche ritenessero di volerlo fare, di professionalizzare dei colleghi su questi nuovi strumenti. Ovvero sul fatto che il trasferimento di un'importante fetta di operazioni, quella legata all'intermediazione del credito, fuori dalle banche può generare evidentemente un problema di esuberi o di demansionamenti per quanto riguarda i colleghi che se ne occupano direttamente. Per questo noi adesso organizzeremo un primo convegno al quale inviteremo rappresentanti dei fondi pensione, del risparmio gestito, rappresentanti di gestori di queste piattaforme, il segretario generale naturalmente, per mettere a sintesi il punto di vista su questo argomento. pensando che l'innovazione può essere gestita e quindi può produrre delle ricadute interessanti e importanti anche per la nostra categoria, ovvero che può essere un fenomeno di depauperamento, di professionalità, che evidentemente va contro il concetto di centralità delle risorse umane che da sempre la Wilka porta avanti. Grazie per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.